Parlando di Ciclopica, io partirei in realtà dal contenitore di Ciclopica, che è l'ex convento che ha trovato la sua dimensione. Sì, devo dire che la felice intuizione ha avuto qualche anno fa di destinare lo spazio ad attività culturali. Vi ricorderete che l'abbiamo inaugurato prima con una mostra d'arte contemporanea, poi con una splendida mostra di fotografie. Diciamo che continua e viene rafforzata da questo nuovo accordo che porterà alla città di Siracusa mostre di altissimo livello, come la città e il luogo meritano. Credo che sia molto importante sottolineare, e lo farò anche oggi nelle mie brevi battute, che esiste qualcosa che si chiama impresa culturale, che è la sinergia tra pubblico e privato, laddove il pubblico stabilisce le regole e dà la direzione. Il privato sta contribuendo in modo tangibile negli ultimi anni a mutare l'offerta culturale della nostra città e quindi saluto con grande favore anche questa nuova opportunità di arricchire fortemente l'offerta culturale e di alzarne la qualità. Quanto vale Ciclopica come richiamo, come promozione, come attrattiva? Io ritengo che Ciclopica, come le altre mostre vedrete, il livello e l'interesse della programmazione culturale anche di quest'anno su Siracusa, servono fortemente non solo ad aumentare il richiamo turistico della città, ma anche ad aumentare la permanenza dei nostri turisti, perché è una città ricca di offerte culturali anche varie e diversificate rispetto ai target, ai generi, sia lo strumento più importante di potenziamento del grandissimo appeal che la nostra città già ha di suo. Alle volte basta davvero il nome per presentare una mostra, Ciclopica fa già capire che si tratta di qualcosa di grande. Sì, di grande e di importante. È probabilmente la più grande mostra di arte plastica mai realizzata in Sicilia. Si tratta di una operazione culturale raffinata e suggestiva che è stata promossa dalla nostra amministrazione, assessorato alla cultura, in collaborazione con Sicilia Musei. Abbiamo realizzato una mostra che innanzitutto lancerà un grande spazio espositivo, che è l'ex convento di San Francesco, che da oggi sarà legato alla produzione di grandissime mostre d'Italia internazionale per tutti 365 giorni l'anno, quindi dando una risposta anche in termini concreti a un'attrattiva sul territorio per i viaggiatori, come chiamarli, molto più che turisti, e offrendo un adeguato progetto culturale per una città che oltre l'Inda deve avere un respiro internazionale. Questa mostra ci riesce. Ringraziamo Sicilia Musei. Adesso sarà presentata. È una mostra di livello, come ho detto prima, certamente straordinario. Ma l'operazione più intrigante è quella di riuscire a fare grandi operazioni culturali a costo zero per l'amministrazione. Di questo siamo molto orgogliosi, perché nei fatti diamo questa spinta con il contenitore che peraltro viene rilanciato, il comune ovviamente cura la promozione della mostra, ne cura l'organizzazione generale e poi c'è un investimento importante da parte di imprenditori del settore come Sicilia Musei, che riescono, come dire, non soltanto a far sì che tutto questo possa essere posto in essere e ci consente anche di deviare le risorse dell'amministrazione verso settori non meno importanti della cultura, ma nella cultura e nelle attività culturali contano le idee, non conta il budget. Il budget conta per fare clientelismo, per fare clientelismo politico, ma per fare attività culturali servono le idee. Francesco Italia lo ha dimostrato nel corso della sua azione politica e amministrativa. Io ho un'esperienza diversa, ma siamo in linea con questa impostazione. Cerchiamo di ottimizzare ciò che abbiamo, cercando di non impiegare delle risorse, ma di ottenere delle risorse per rilanciare la nostra città. Grazie.